Bella vecchi trapani, siamo i Granas e siamo tornati qui con un nuovo video oggi Vi riportiamo un video che abbiamo fatto già su FIFA 15 Che è veramente divertente e vogliamo fare anche su FIFA 16 Ovvero, metti pronto? Sì Ovvero, andremo a pompare le statistiche Quindi andremo a fare tipo titolo 100, cose 100, tutto 100 Mamma mia che bella vera questa Mettiamo tutto a 100 Magari no, errore tiri perché sennò c'è Sbagli tutti i tiri possibili No, infatti lo mettiamo a 0 Ah, proprio c'è nel senso, tiri i segni, per forza Eh Errore tiri 0, errore passaggi 0 Velocità tiri 100 E velocità passaggi 100 Poi, infortuni, che avete infortuni, abilità portiere lasciamo a 50 Piazzamento tutto 50 Questo lasciamo tutto così L'ultima volta che abbiamo fatto è finita tipo 8 a 7, qualcosa del genere Comunque è stato molto divertente Allora, vedete la coreografia del Berlabeu ragazzi? Tipo io adesso faccio così, no? Boh La visuale non segue Ah, ok Ok Rolando, Rodriguez Cazzo, Fio Rolando, Rodriguez Pedro Pedro, 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 Pedro Oh, 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 oh Vantaggio Ma che cazzo fai? Grande, Navas Dalla distanza Mortacci tua, ti ho detto levate, volevo fan gollo il fico Oddio Benzema, Benzema Benzema Ah, ma i tutti i miei truccini sono entrambi Non vale Mannaggia Grande Oh, ora mi lo vantace, guarda quanto scivola Oh, 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 oh Oh, oh 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 BRET Oh, 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 oh Porca lui non si è visto il ballone Ollie e Benji Che campioni, Ollie e Benji È un pezzo di infame Ronaldo, attenzione Vai, tu tipo molto Attenzione Ronaldo E' un passaggio, uno schema, al tiro Bello schema, mazza Guarda che è meglio così che tirare E vabbè Dove tirare la segna E vabbè Fabregas Porco cane Mamma mia, due a zero centi Porca puttana A grande A grande BOOM E' Gareth Mamma mia Porco due Ah, poi l'ha arrivato 40 volte Come il sasso sull'acqua, lo senti, va Ehi Marta, non hai mai rimbalzato la palla Però vabbè TONI Ti vedi a urla quando fai il tiro Non so perché Si, perché proprio carica al massimo Si, pensi ma, pensi ma Ma se ti vuoi io scivolo, no? BOOM Quando arrivi là, direi proprio Manco, cioè Manco degli risultati, io so che si Ma se io scivolo, faccio tutto il campo in scivola Si, proviamo a fare una cosa iniziale Che dita al culo Oh, grande Grande Pedro, 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 Pedro Porco due, Diego Mamma mia, che gol Ehi, capito? Cioè, questa era proprio un'azione normalissima Tant'è che piottavano di 4.000, però vabbè Palla per lui In tiro No, come l'ha presa? Scuso Dai, a Courtois Vaffanculo Mo' mi stai a dire che il modriccio core Vabbè 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 I passaggi, ma n'era zero di errori sui passaggi Teoricamente Tu, 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 tu Bravo, bravo Bravo, bravissimo Bravo, bravissimo Il telefono che sono... Bravo, bravissimo No, no, non tira Non devi tirare Con due Ehi, che cavolo Venga, Pedro Puta mierda Ma vaffanculo, va That schema Dai Boom Vedi? Questo è uno schema migliore del tuo Certo, un culto, ma che ha fatto? Tutto, regà, sto video si chiama Boom Vabbè Vabbè Boom Boom Putta, puta Putta mierda Boom Hazar Sempre lui Primo gol No, 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 no Sì, si, sì, 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 sì E che culo, però Così in palle Magici Form tanzio Come t'ho dribbato Non so Di impalle Oh Mamma mia Dei god EStux Guarda, guarda Quell ku Che culo Che culo Che culo Che è Tra l'altro E' la forma Guarda Ca U, E, HA, E, U, I, HA, U, BOOM! No, cazzo! Che cazzo! E rigore! Ma che te sei in c***a, cioè... Scusa, eh! Oh, Modric, hai rotto il c***o, cioè... Vai Modric, vai Modric! Modric, non corre più... BOOM! No, che c***o hai impalavato! Vai così, vai così, vai così! Non gli facciamo capire nulla! Non gli facciamo capire nulla! Sette a tre! Comunque è incredibile, cioè, te trovi sempre davanti, sono sempre 40 giocatori! Perché tu vuoi far tutto da solo! Quello è il problema tuo! Io la passo! La differenza qua! Dici, eh! Dici che posso far tutto da solo! Però chi è che sta a tre con lui? Sì, sì, aspetta, non è finita, non è finita! Vai, 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 tranquillo! Retta! Ho scultura, ma perché te scontrano da soli? Sti spastichelli! Ma, vai, vai! Ma io, 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 le parti notare! Cosa è tipo... Balla dentro! Sì, sì, lo potessi pure! Si è buttato, è vero! Cosa è entrata dal pallone? Già stavano esultare e si è buttato! C'è di lei! Boh! Ma la puoi vista! Oh, Carlo, eh! Oh! No, la tua passa muo! Vabbè, scialla! Perché tanto ti è coccostante! Dai segna! Oh! Guarda che c***o che c***o! C***o che è! Mori! Ma che c***o che c***o che è! Che c***o! A parte mai distrutto un giocatore! Guarda, guarda, guarda che sto a fa... Guarda che sto a fa... Guarda che sto a fa... L'ha presa, mamma! L'ha presa! Oh, sto madri ci ha cagato il c***o, eh! Vabbè, 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 vabbè! Oh, Dio! Oh, Dio! Oh, Dio! Oh, Dio! La madre ci ha fatto i coglioni, in effetti, eh! Vai, dai, no! No, non tira! Ma come non tira? No, Dì! Che cazzo vuol dire? No, non lo fare! Ma che cosa ha fatto? Oscar! Vai! A grande! 69, tanto è caldo. Fa' culo. Vai, non voglio stare a sera. Ma spazio è che almeno i tuoi coprono, i miei 9, i miei si allargano proprio. Che cazzo cito sta. Con tu, ma che l'hai visto? Cioè, tu vai dritto i segni. Marcello ha regalato palla. E' caldo. Buu! Ma ci so che cazzo ha parlato. No, no, no. Che cazzo... E' bapè! E' bapè! Ma fai fatto un tiro di testa che... Manco in geta, oh. Porca puntana, va. Con due, c'è la dinamita, la posso dare. Esatto. Applauso, davvero. Fate che schermo t'ho fatto. Guarda, guarda, guarda. Bum! Ha bucato la porta. Benji Price. Dish! Dish! Mamma mia, questo Chelsea! Con il punteggio magnifico di 7 a 10. Però... Che c'è? Però? Però... Però... Siamo lì. Che cosa? Che cosa? Vabbè, come potete funzionare... Con il magnifico strunte, punte, maneggio pantifico delle... Dietze a... A sieci. A sieci. A sieci. A sieci. Noci. Noci vecchioni. Al... Privio... Viossimo. Vabbè. Al prossimo video. Noci picco, al prossimo video, ragazzi. Se mi ha preso questo video, lasciamo 5 like e noi replichiamo. E niente, ragazzi. Noi lo replicheremo. Se questo video vi è piaciuto. Come sempre, vi ricordiamo che... Sta per tornare il RomaTube, che ci darà il 22 dicembre. In descrizione trovate il link per andare a acquistare i biglietti per il RomaTube. Ormai siamo arrivati alla terza edizione. Ogni volta è stato un bel evento, quindi... Per chi non ci è mai venuto, vi aspettiamo. Per chi ci è venuto, vi aspettiamo. Per chi non ci viene, vi aspettiamo. Ma aspettiamo. Ma aspettiamo e niente. Ma aspettiamo voi comprate le magliette. Io vi faccio un libro molto ricco. Vabbè, comunque, niente. E noi si beccamo là. Ciao.